Nicchi Vendola a Prato per sostenere la lista sinistra unita Prato e le candidature dei sindaci di centro-sinistra nei comuni pratesi al voto. Mi aspetto la riconferma del centro-sinistra alla guida della città di Prato e mi aspetto che si riconfermi una tradizione antica di radicamento civile e democratico, ha detto l'ex governatore della Puglia e presidente nazionale di sinistra italiana in merito alla sfida delle prossime amministrative. Vendola ha intervenuto anche sul tema della multiutility toscana. Per noi gli elementi che riguardano la salvaguardia dei beni comuni, a cominciare dall'acqua, non mettere all'incanto, non portare in borsa quelli che sono valori che attengono proprio alla qualità della convivenza è un punto molto importante. Penso che se la multiutility resta in mani saldamente pubbliche, evita la via della borsa o della confluenza di interessi privati, penso che sia una buona operazione. E sul tema era intervenuta oggi anche la lista sinistra unita Prato che riunisce alleanza verde-sinistra, sinistra civica-ecologista e socialismo 21 a sostegno della candidatura di Ilaria Bugetti. Noi siamo contrari sia alla finanzializzazione che alla privatizzazione. Io credo che si possa arrivare a definire una situazione gestionale complessiva della multiutility diversa rispetto a quella che in parte è stata ipotizzata fino ad oggi. Grazie a tutti.